Un buco di quasi un metro nel muro della cucina, cocci dappertutto, danni ancora danni, calcinacci sulla fettatrice, sul forno per toste e panini, piatti e stoviglie rotti. Una devastazione quella che si è presentata a martedì mattina all'alba, agli occhi di Simonetta Alessandro, madre e figlio, titolari del bar Roma di Cadoneghe. Complici il buio e la nebbia fitta di questi giorni, oltre che la provinciale, chiusa da ottobre, i malviventi hanno agito indisturbati durante la notte. Allora arrivo Simonetta e Alessandro, non volevano crederci. La cucina era totalmente sfasciata, calcinacci per terra, un buco incredibile fatto sul muro, una scena pressoché da film. Il lavoro va avanti, nel locale sono già all'opera per riparare i danni. In genti, raccontano Simonetta e Alessandro, almeno 5.000 euro a fronte di un bottino di poche centinaia di euro, il fondo cassa del bar, come del vicino distributore Autoravaggio. Rabbia tanta, perché comunque sia, si crede di essere sicuri all'interno del proprio ambiente e invece ci si rende conto che è tutto il contrario. È la primissima volta in nove anni e come prima volta è stata anche molto chiara e molto difficile.